e voilà eccola qui ci siamo aia che botta ci siamo ci siamo amici ci siamo finalmente è arrivata anche iliad con questi 100 gigabyte quanti di voi l'hanno aspettato in tantissimi non si muovono mai sono passati più di due anni non ha mai fatto più niente altre tariffe e finalmente eccola qui la volevate ed è arrivata è arrivata la 100 giga di iliad ma via andiamo a vedere subito eccovela qui eccovela qui la nuova offerta di iliad flash 100 l'hanno chiamata 100 gigabyte minuti sms limitati a 9 euro e 99 con un attivazione una tantum di 9 99 come vedete ha una scadenza quindi non rimarrà lì per sempre a 27 giorni la si può attivare da oggi oggi che è il 17 di settembre e scadrà il 15 di ottobre quindi avete questi 27 giorni di tempo per poter attivare questa nuova offerta di iliad naturalmente ci rimangono sempre le altre offerte ci sono qui sotto le vedete quindi c'è quella voce a 4 euro e 99 c'è quella da 50 giga a 7 99 e quello che mi incuriosisce di più è quella da 6 99 la tengono nascosta ma c'è e dove dove la si trova una volta era qui in basso qua sotto no in basso sulla sulla sinistra e non c'è se andate a vedere nelle altre sotto le altre offerte facciamo magari quella da 100 giga facciamo scoprire andiamo a vedere qui in basso e qui non c'è insomma rimane sempre nascosta ma la trovate la trovate sotto quindi dovete andare sotto l'offerta quella da 50 giga cliccate su scopri è l'unico modo per trovare l'offerta da 6 99 andate in basso qui e la trovate qua giù eccola qui scopri l'offerta precedente quindi andate qui cliccate e voilà trovate anche eccola qui io mi sposto e trovate quella da 40 giga 6 euro e 99 quindi ci sono tutte una due tre quattro offerte quindi adesso abbiamo completato diciamo un po il cerchio perché finalmente è arrivata anche questa 100 gigabyte come già detto a una scadenza allora si noterà logicamente che ha un costo superiore rispetto ad altri no e altre hanno 7 ore 90 e questa qui invece 9 99 ma quello che bisogna anche mettersi in testa e ricordarsi è un po le differenze delle varie sim allora è a parte kena che mi sembra che kena scada a una scadenza adesso non mi ricordo sempre problemi di vecchiaia mi sembra 90 giorni se non la si rinnova e scadrebbe l'offerta invece abbiamo veri mobile e quella di di o mobile che quelle offerte lì non scadono quindi come magari fanno altri gestori ad esempio uno mobile c'è anche cop voce e rabona hanno una scadenza cioè se non si rinnovano dopo 30 o 90 giorni dopo dipende logicamente da dal vari gestori decade l'offerta e si va a consumo esempio quella di cop voce che avevo fatto che poi è questa qua che sono andata a prendere la sim quella nuova e non ho rinnovato l'offerta non mi ricordo neanche più che tipo di offerta avevo e cosa succede che adesso quella sim è andata a consumo quindi quella sim non ha più l'offerta che feci tempo dietro e va a consumo a 12 centesimi al minuto sms e poi eventualmente se volesse andare su con internet pagarei tre ore e cinquanta insomma quindi bisogna anche fare questi calcoli o mobile anche o mobile non ha una scadenza quindi rimane l'offerta come quella di veri mobile la differenza che non vanno nessuno delle due non vanno a consumo l'unica rimane quella di spuso spuso è una tariffa che l'offerta rimane e si può anche andare a consumo con 9 centesimi al minuto ed sms e addirittura la sim dura 15 mesi tutte le altre sim bene o male durano 12 mesi 11 mesi come mobile come avevo fatto vedere in alcuni video quella ad esempio quella di cop voce dura 24 mesi quindi possiamo ricaricarla magari sapete quei 5 euro per ricaricarla per non far scadere il numero lo possiamo fare dopo 24 mesi tutte le altre bene o male 12 mesi e come ho già detto spuso 15 mesi quando vediamo questa tariffa da 9 euro e 99 dobbiamo anche valutarla in questo senso va bene o mobile vabbè a parte sono gestori hanno coperture diverse e quindi se si ha una buona copertura iliad o ancora sotto copertura win3 oppure se proprio nelle proprie antenne nelle antenne proprietarie parolone difficilissimo da dire e se ha una buona connessione quindi penso che può andar bene perché perché questa offerta rimane come ho già detto e se non dovessimo rinnovare l'offerta mensilmente con iliad andremo a consumo il consumo qui sono 28 centesimi al minuto e anche 28 centesimi in sms e non è scatto la risposta quindi è sul secondo effettivo che noi facciamo quindi se noi dovessimo telefonare non essendo più sotto l'offerta spenderemmo quei 14 centesimi per 30 secondi altri gestori bene o male cosa fanno vanno magari a scatto quindi farebbero partire lo scatto se fossero 29 centesimi magari vanno pagare 29 centesimi anche se telefonate per 15 30 45 secondi meno male va a consumo quindi qui con questa tariffa e anche le offerte di iliad bisogna fare questi paragoni possiamo come ho fatto io la sim di mia figlia che non l'ho rinnovata perché non ne aveva bisogno e l'ho rinnovata dopo 12 mesi quindi per non far scadere il numero ho ricaricato 5 euro l'importante è mantenere quel numero e non far scadere e poi potremmo andare anche a consumo quindi se non abbiamo necessità di non usiamo tantissimo il telefono questo potrebbe essere anche una buona idea quindi basta rinnovare l'offerta qui 9 euro e 99 si ricarica 10 euro che rimane un centesimo sulla sim e ripartirebbe l'offerta 30 giorni non vogliamo farla ripartire non dobbiamo fare niente mettiamo pagamento in manuale non ricarichiamo e potremmo andare a consumo logicamente nella semi ci devono essere dei soldini perché sennò non vi fa telefonare naturalmente quindi quando si sceglie un gestore eventualmente si sceglie iliad anche guardando queste cose qui non non vanno a consumo bisogna lì per forza mobile veri mobile devono andare offerte devi rinnovarla l'offerta perché sennò non andrebbe non riusciresti a telefonare potresti solo ricevere questo qui invece con iliad no abbiamo un po di credito sulla sim potremmo anche telefonare la possiamo usare quando ci pare quindi la forza diciamo di via da anche questa e naturalmente anche se qui non c'è scritto però è 100 giga minuti se messi limitati non c'è scritto per sempre ma penso che siano sempre tariffe per sempre quindi che non vengono cambiate altre cose da sapere ah beh sì la velocità massima che da iliad sono 390 megabit al secondo in download e 50 in upload il resto poi tutto il resto lo sappiamo di già cosa possiamo fare con con questa sim quello che loro quello che loro danno è il mi richiami l'hot spot e poi c'era la segreteria telefonica tutto compreso già nel prezzo anche qui non fate la cavolata eventualmente chi la dovesse provare per la prima volta di fare subito la portabilità non fate l'errore che magari è stato fatto da tantissime persone inizialmente due anni fa quindi quando è uscito volete provare la iliad spendete questi circa 20 euro acquistate la sim la provate se vi trovate bene allora lì da iliad si può fare la portabilità del numero non fate l'errore come hanno fatto in tantissimi che hanno fatto immediatamente la portabilità poi hanno visto che insomma non aveva non si trovavano bene perché non c'era connessione c'era un problema una cosa un'altra e alla fine hanno dovuto cambiare il gestore quindi hanno dovuto fare la portabilità verso di nuovo un altro gestore o tornare con chi erano prima qui ragionate ragionate avete 27 giorni di tempo per pensare questa cosa qui 100 gigabyte non ci sono strozzature è una tariffa penso che sia per sempre perché iliad promette sempre queste cose qui acquistate la sim fate le vostre prove vi trovate bene benissimo potete fare la portabilità del vostro vecchio numero ve lo portate in ilio se no lo lasciate così magari potete usare anche come una sim alternativa per la connessione dati vabbè l'ultima cosa io si vede che non vado all'estero è però ci sono in questa offerta qui dei 100 giga di ilia ci sono 5 giga e dedicati in europa in più lo leggo se non me lo ricordo minuti limitati verso fissi e mobili internazionali oltre 60 destinazioni verso fissi in europa e fissi e mobili in usa e canada va bene ragazzuoli a questo punto basta per iliad è tutto finalmente è scappato fuori questa tariffa dei 100 giga tanto aspettata a voi la scelta il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti il solito abbraccio a chi mi vuole bene un saluto da tito ciao ciao iscriviti al canale iscriviti al canale